Dopo aver sostenuto per tanto tempo la naturale connessione tra Rieti e l'Umbria al punto tale di aver promosso un'iniziativa referendaria a Rieti in Umbria, non posso che accogliere con soddisfazione il protocollo sottoscritto tra la Regione Lazio e la Regione Umbria. Così Marino Formichetti della UIL in merito all'accordo siglato nei giorni scorsi in tema di sanità e turismo. Fatto questo tra il Presidente Zingaretti e la Presidente della Regione Umbria vuol dire collaborare per quanto riguarda la sanità, cosa molto importante perché già la nostra mobilità passiva verso Terni è il 50% di quella totale e collaborare per quanto riguarda il turismo. Un accordo che prosegue Formichetti sebbene avviato non potrà che avere numerose positive ripercussioni per entrambi i territori che pur essendo in regioni differenti sono legati dalla vicinanza e molto simili per tradizioni e cultura, caratteristiche indispensabili per costruire un territorio omogeneo. Questo è un primo passo, questo primo passo dovrà naturalmente far seguito un calendario ben preciso di impegni, speriamo che questo avvenga e speriamo che avvenga anche per altri settori, quali trasporti dove noi in qualche maniera con Terni siamo ben collegati. Le prime bozze di riforma delle regioni non testimoniano certo uno studio storico da parte di chi la propone e ovviamente Rieti si trova di nuovo nel posto sbagliato, ancora una volta divisa da Terni e dall'Umbria che sono inserite nella regione adriatica. Il dibattito sulle future regioni non è ancora nel vivo ma ovviamente ci dovrà essere e ci sarà, ha concluso Formichetti, indipendentemente dalla volontà politica.